Ma nooo, ma nooo Usa il rampino Madonna, ah questo, quello di prima Absolute Vodka Un piede disgustoso Dai, vediamo questa? Vai Ciao a tutti, sono Rolfier E oggi siamo qui insieme a Play Doh Game Sì, devi guardare qui, vedi? E oggi faremo un doppio video, tutto per voi Giocheremo a Speedrunners Io non ci ho mai giocato, lui sì, quindi sono stra-svantaggiato Farò il bravo, dai Farò finta di non essere bravo E chi perde il round dovrà subire una penitenza Che vedremo dopo Vai, siamo pronti, allora Ripassami un attimo, allora Si salta con... X Che io ho il controllo della Playstation e io ho dell'Xbox E giochiamo da PC, eh Che l'arma L'arma e l'R2 e il Turbo Non ci sono altri tasti, troppa roba da ricordare C'è anche... Nooo, chi sono io il gatto? Io sono il Panzone Col quadrato, no, aspetta cos'era? Mi ricordo più Cosa sono io il gatto, cacchio Oh il tipo è velocissimo Ah, vuoi fare anche un doppio salto Ah! Bella! Dobbio! Panzone primo! Oh no, sono ultimo! Sto ciccione che vola, cazzo Guardavo, guardavo la donna Non stavo guardando il gatto Però se perdo anch'io come facciamo? Niente, facciamo una penitenza Penitenza per entrambi Nooo Cosa vuol dire questa cornice? Eh, che se adesso qualcuno la tocca muore Mi fa toccare la cornice rossa Ah, ok, ok Ho capito E com'è la tempesta su Fortnite? Uguale, cazzo L'hanno presa infatti da questo gioco No, ma tu sei il pollo Ma cazzo Ho vinto una città cosa Nooo Mi tocca la penitenza Ok, allora, girati Nooo Ora andremo su 5050 su Reddit Ok E vedremo cosa vennerà fuori Adesso ti scelgo un post Dove farlo Sarà una mela deliziosa oppure una persona con un insetto nell'occhio? E' quello che non volevo vedere prima Speriamo una mela Speriamo una mela Quando sei pronto? Aaaaaaah Che cazzo questa roba Perché l'ho vista anch'io? Dovevi guardare la sera? Aiuto Portatemi in ospedale Voi siete infortunati perché vi censureremo tutto Noi possiamo anche far finta, no? Che schifo, mamma mia Andiamo al secondo round Oh no Ma dove si comincia? Sono il gatto, io devo ricordarmi Il clorvento di Rampino E Rampino è quadrato Ti velocizza un po' Rampino non è R2 No Perché mi sono confuso questo Perché ti premevo R2 Nooo No perché salto? Aiuto Rampino Non posso giocare a sta cosa Nooo Com'è che si fa l'arma no? Col cerchio Si Che cazzo è? Rampino Rampino usa Rampino Porca troia no Dove sono io? No io guardavo l'altro Nooo Nooo Chi ha perso qua? Sto giocando il computer Io guardavo l'altro personaggio Sto giocando il computer da solo Perché io guardo gli altri personaggi Però qua dato siamo morti entrambi E prendiamo la penitenza entrambi Ah così tu vuoi fare? Si Oppure no è un pari Un pareggio No va bene va bene La foto di qualcuno che sta soffrendo da PTSD Cosa sta roba? Cos'è PTSD? Guardiamo Vai Oh Mamma mia Grazie a Dio Oh da che parte si va? No Di qua Sono già svantaggiato Uii No Ma perché ho fatto la scivolata? È stata la scivolata sul tipo Ma si non lo so Si può fare la scivolata sul tipo? No Ma io mi confondo Non si può No 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 Si però devo anche vincere adesso No No Appena detto Raga sempre ultimo arrivo Ok Allora decidiamo Un pesce che va male O una zuppa Vabbè Un pesce che va male Vai vabbè Si dai chi sta Oddio Mi ha fatto fare un attimo impressione Ma in realtà è una zuppa Si esatto E se mi città il piatto Che fa impressione Quei puntini E tipo come si chiama quella cosa? Sembra una malattia Oddio La tripofobia Si quella roba lì esatto Tripofobia Si 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 Fa schifo abbastanza Ah Fa schifo anche la zuppa hai capito? Ma se faceva meno schifo il pesce Ah forse era questa no? Il fifty fifty Che Il pesce era bello La zuppa no Sono caduto Ma che cacchi hai visto cosa ho fatto? Tutti li ho presi Ho sbagliato Si perde anche dall'altra parte vero? Si si Oh no? No in realtà se tu vai avanti Sposti la visuale E una cosa E una cosa Nooo Nooo Ma come? Adesso sto prendendo tutte le periferie Adesso io però non devo guardare Perché se no come prima Guardavo anch'io E che cazzo Un cane che vola una merda fresca Oppure un papi bellissimo Per fortuna ho un cane a casa Vai Cosa devo fare? Non c'è niente Come non c'è niente? Oh Vai E' un cane Ma è un video Se non adesso il cane caga Ma è un video di 10 minuti Ma siamo impazziti Ma cos'è? Che cazzo ti fa? Ho premuto già il tasto sbagliato Io premo R2 E sbaglio no? No è giusto Ma no R2 per saltare Ok Si Per scivolare anche Tutti i tasti per me sono R2 Tutti di qua siamo andati No No Nooo Sono morto Vabbè Nooo Eeeeeee Adesso Cosa ancora? Sono troppo bravo Ma donna Non avevo mai scelta Siamo fare una partita a bigliardo Un buco pizzarro di un cavallo O? O un gattino Che Che maua Molto forte Va bene vai Oh Sono dei gattini Come il cane Ma sono i video da 10 minuti Di nuovo No questi sono da 2 Ma che cacchio Oh mio di difficilissimo No Orca Una cassa alla volta No ho sbagliato Nooo Sono morto di nuovo Sono morto di nuovo No 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 Cazzo 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 E se neanche ti dico cos'è Cazzo 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 E' uguale Hai fare i buffi Adesso ho visto Sono il gatto Con gli stivali No maledetto Avevo ancora il turbo Io? Si Come ancora? Aiaaa Sprecatissimo Premi Premi quadrato Quadrato Qualsiasi tasto In realtà No 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 Non ci posso crede Ce la posso fare Perdiamo più contro i botte che tra di noi Un uomo che cade da un ponte O un cute fluffy dog Ma va benissimo Madonna Vai No no sembra un pulcino Sembra una pecore In Minecraft Next round Da che parte? Giù Su Su Ma non lo so Ma nooo Usa rampino Devo scegliere io? No l'hai perso tu Eh Un camion che cade su un tipo Ma come ho perso io? Hai perso anche tu? No Si Ha vinto il Chi ha vinto il botte? Ah no era ancora in Ok ho perso Bionicai Oppure Questo qua è abbastanza inquietante Vogliamo vederli insieme? Aaaaaaaaaaaaa Si vengna Ho vissi papà Ma che cacchio Ma che cacchio Ma cos'era? Ma l'hai visto? Madonna Eeeh 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 Prima volta che riesco a fare una roba Eeeh 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 Si Oh mio dio sto diventando bravissimo Sto diventando bravissimo Oh nooo Eeeh 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 Non si capisce più niente Eeeh Eeeh Nooo Per un millimetro Eeeh 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 Io lo fermo così Veramente Si Io faccio un casino Un tipo che cade su una macchina Hmmm What the freak? Però tu non lo devi vedere Ah giusto Ah Non mi ha fatto molto senso Aaaaah Che male il c***o Ma è anche tranquillo il tipo Ah ok Eeeh Non so perchè Mi ha fatto impressione Ah veramente perchè Piegando il coso Non è che abbia fatto Pronto? Si Porca p***a Ero pronto Eeeh Devo solo vincere Devo vincere Devo vincere Devo vincere No Mamma mia Ah io non ho mai usato le armi A proposito Per dire No No Eeeh Finalmente ho permesso Quella cosa di No No Ma maaaaa Ma 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 che c***o Questi bot fortissimi Ah No No Ah ha vinto tra l'altro Finita la partita Penitenza per entrambi Insomma Ultima penitenza per entrambi C'è Madonna Ah questo Quello di prima Absolute Vodka Un piede disgustoso Dai Vediamo questa Vai Vabbè Ok Vabbè fa impressione sta roba Si ok Va via Si fa impressione Si Fa impressione Poi era anche tipo Che c***o era pelle morta Che Ok ragazzi Questo era il video Il primo video Adesso Non mi capino Questo era il video di Rollpierre Troverete il link al secondo video Che sarà tipo la seconda parte In descrizione Il link di cosa Del mio video Sul mio canale Non sappiamo neanche noi Cosa faremo Quindi voi che Guardate lui Andate a vedere Una seconda puntata Leggermente diversa Sul mio canale Il link trovate in descrizione Yes Credo sia giusto così Si Bene ragazzi Ci vediamo alla prossima puntata Ciao